Buongiorno, in questa sezione andremo a vedere come gestire gli ordini in virtual mode con se la trading bridge. La modalità virtuale nasce con l'intento di semplificare la parte di programmazione nella gestione delle condizioni speciali degli ordini, quindi lo scopo della modalità virtuale è quella di avere a fronte dell'invio di un ordine delle condizioni di mercato specifiche e replicabili. Per fare questo si hanno tre condizioni possibili. Per tutti gli ordini che hanno il simbolo che inizia con una lettera compresa tra A ed F avremo l'ordine che verrà inserito al mercato, accettato e subito dopo eseguito. Per tutti quelli che vanno da G ad N invece avremo l'ordine che verrà inserito al mercato, accettato dal mercato ma non sarà mai eseguito, quindi avremo la possibilità di testare una condizione di un ordine che rimane pendente sul mercato e invece per la condizione per tutti i titoli che hanno una lettera che inizia da P a Z invece la condizione sarà che l'ordine verrà rifiutato dal mercato, quindi si potranno testare le condizioni di un ordine rifiutato dal mercato e quindi come si dovrà poi comportare il programma a fronte di una condizione in cui si dovrà ritentare l'invio dell'ordine. Si è deciso questa modalità e non una modalità randomica in modo tale proprio che questo sistema possa essere sempre replicabile e quindi io abbia la possibilità di poter gestire le varie condizioni di mercato tutte le volte. Il modo con cui si può decidere se essere in modalità reale o virtuale avviene solamente in fase di startup e quindi nella fase di startup avrò la possibilità di decidere in che modalità parto. Non sarà possibile cambiare la modalità per cui se voglio cambiare la modalità sarà necessario fermare l'applicazione e riavviarla. Quindi come abbiamo detto in fase di inizializzazione il primo comando da eseguire per far funzionare l'oggetto session dopo avergli assegnato la licenza è quello della inizializzazione. Questo lo si fa con il metodo init passandogli la modalità che se la vogliamo virtuale dovremmo passargli tramite renumerato order execution mode virtual mode. Adesso andremo a vedere quindi di seguito come si comporta il programma di esempio in modalità virtuale. Quindi mettiamo un breakpoint nella parte di inizializzazione della sessione e poi andremo a vedere cosa succede. Quindi facciamo avvia. A questo punto io anziché partire in modalità reale parto in modalità virtuale. Faccio conferma. Mi fermo sul breakpoint. Quindi la prima istruzione da eseguire dopo aver abbiamo visto che abbiamo iniziato la licenza nel program CS quindi in fase di startup. Qui siamo partiti. La prima istruzione che devo fare sullo session è la sua inizializzazione con la modalità. La modalità come abbiamo visto siccome sono partito in modalità virtuale è virtual mode e da qui proseguo. Il programma di esempio quindi adesso mi chiede come al solito il login che è sempre lo stesso. È sempre la maniera corretta. Quindi bisogna impostare i dati effettivi. Una volta che parto il programma di test di Xremoting with Test Application mi fa capire che sono in modalità virtuale perché se sono partito in modalità virtuale la barra del menu è rossa. In questo caso per vedere come si comporta io apro il mio stato ordini che visualizza gli ordini che effettivamente ho nel mio stato ordini e quando andrò a eseguire degli ordini, adesso andiamo a fare le varie prove, quando andrò a inserire degli ordini negli specifici strumenti andremo a vedere che nello stato ordini mi arriveranno in push i vari messaggi degli ordini che ho appena fatto. Quindi io adesso vado a prendere per esempio FCA, faccio una compravendita, compro un pezzo a 9,5, in modalità virtuale non è possibile fare un ordine fast in quanto è simulato. Quindi adesso io nel momento in cui vado a fare compra il mio ordine verrà simulato in tutto e per tutto, quindi verranno fatti tutti i controlli e verrà mandato l'ordine. Solo che anziché andare realmente sul mercato i vari messaggi di stato ordine verranno simulati ma saranno uguali agli effettivi. Quindi nel momento in cui faccio l'eseguo, ci sarà un tempo di valutazione per poter permettere il debugging del programma. A questo punto io ho avuto l'eseguito dell'ordine virtuale, fisicamente nello stato ordine mi è entrato un ordine virtual e come si può vedere il suo stato è E, quindi è stato anche eseguito. Adesso invece io vado a prendere uno strumento, per esempio Intesa San Paolo, che quota in questo momento 5, anzi no, quota questa variation open, open price 2. Allora facciamo così, facciamo una compravendita su Intesa San Paolo e dico che lo voglio comprare a 25 euro. Compro e come vedete il controllo è stato completo per cui l'ordine è stato rifiutato perché il parametro di prezzo che avevo messo andava fuori dai range di controllo e di conseguenza non può essere accettato. A questo punto lui mi dice che posso inserire solamente un ordine compreso tra 1,13 e 3,41, io vado a inserire un acquisto a 2,1, compro, a questo punto il controllo è passato, posso fare l'eseguito, posso eseguire l'ordine, l'ordine è stato eseguito, ho sempre il mio ordine virtuale, mi è entrato nel mio stato ordini con Intesa San Paolo, ma come vedete lo status anziché essere eseguito è accettato e rimarrà accettato fino alla fine. Ultima prova da fare è questa, vado a prendere per esempio STM, STM voglio fare la compravendita, STM in questo momento quota tra 11 e 11,01, io compro a 10,9, compro, i miei controlli sono passati, posso eseguire, nel momento in cui avrò l'ordine virtuale che ho ricevuto vedete che questo ha lo stato RM che vuol dire rifiutato dal mercato. L'ultima cosa che faccio notare è questa, nel caso in cui io rieseguo di nuovo il caricamento pool dello stato ordini, i tre ordini virtuali che ho creato in quanto virtuali non saranno presenti e mi estrarrà solamente gli ordini che effettivamente ho nel mio stato ordini, quindi io faccio ricerca e vedete che gli ordini virtuali che ho inserito non ci sono più. Grazie a tutti!